Ho visto donne camminare sotto il sole in cerca d'acqua, con un figlio sulle spalle e un altro nella pancia. Le ho viste coltivare la terra, nutrire i loro bambini, le ho viste battersi per la vita e sorridere per piccole cose. Ma tante rischiano di morire durante la gravidanza e il parto. Io le voglio aiutare. Le ostetriche salvano la vita di madri e figli. Insieme possiamo formarne migliaia. Dona ora al 45 506. Grazie. Grazie.